si nota su questo pallone Gori Galabinov allarga Canotto Canotto vuole l'area di rigore Canotto va in porta Canotto Rete 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 Canotto la regina in playoff pazzesco Inzaghi infanzito la regina in playoff a un minuto dalla fine la regina in playoff la regina in playoff tutto il pubblico del gran rile infanzito un finale clamoroso è finita è finita la regina in playoff pazzesco finale di partita tutti in campo belli della banchina di Pippo Inzaghi e il triomfo di Inzaghi travolto dai suoi collaboratori di Pippo Inzaghi la regina in playoff di Pippo Inzaghi per la regina in playoff di Pippo Inzaghi di Pippo Inzaghi e il progetto di Pippo Inzaghi l'area di Pippo Inzaghi Grazie a tutti.